Il PNRR, dove c'è anche l'aspetto della resilienza, è particolarmente significativo per il Paese, sia per i comuni piccoli, dove molti di noi sono revisori, sia anche per molte società che partecipano a bandi e quindi hanno la necessità di avere controlli da parte di noi professionisti. Le priorità del nuovo governo sono, ovviamente, vista dal nostro punto di vista, per quanto è possibile una semplificazione fiscale, ma soprattutto credo che il governo debba interloquire con l'Agenzia delle Entrate in modo tale che noi commercialisti possiamo avere il punto di vista e possa essere rappresentato il nostro punto di vista in una possibile semplificazione e collaborazione.